E' il caso di dire, ve lo avevamo detto e ci risiamo, è sostanzialmente l'operazione gemella di quella effettuata una decina di giorni fa, un atto di pirateria consumato ai danni di migranti che erano allo sbando in acqua, sono stati avvicinati dall'ennesima imbarcazione di pseudopescatori che li hanno privati dei cellulari, hanno chiesto loro la consegna dei loro beni, li hanno caricati a bordo, hanno caricato a bordo anche il motore che poi intendevano rivendere, per fortuna con noi forze di polizia coordinate tra di noi, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Capitanerie di Porto, stiamo vigilando anche su questa nuova forma e nel giro, ripeto, di dieci giorni ci sono nuove persone assicurate alla giustizia, non so dirvi ancora quante, ma sicuramente tra 4 e 6 e nei prossimi giorni poi sarà l'autorità giudiziaria a dirvi i particolari. Per intanto diciamo che oggi che ormai è trascorso il Ferragosto abbiamo lavorato, esserci sempre significa anche questo, esserci sempre il motto della Polizia di Stato negli ultimi anni, ci siamo anche a Ferragosto.